adesso una sorpresa per voi la lunghe le figurine del me contro te me contro te film pacchi del tempo allora c'è cosa contiene l'album poi due pacchi di figurine io ne ho comprate altri due però la confezione ne contiene solo due pacchi allora ci dovrebbe essere anche in ogni bustina ci dovrebbe essere una card speciale che hanno fotografato si infatti e guarda guardate cosa si trova la devi girare la sbogliare questo è l'inizio qua scrivete il nome di chi è e qua c'è tutta la storia noi faremo vedere qualche paginetta praticamente ogni bustina costa un euro quindi ne abbiamo tempo qua per completare si chiede una quante ne contiene mamma ti voglio dire una e apri vediamo quante ne contiene credo che ne contiene ecco ecco guardate qui ci sono quelli dei personaggi quelle che si mettono ok ok sta avendo un pacco ma qui c'è anche un poster questo guardate guardate è grande è grande proprio andiamo da questa parte questo lo potete mettere nell'armadio vediamo cosa hai provato e allora cinque figurine sono cinque te lo apro io meno male tutte diverse e questa è quella lì la card speciale c20 sui soffio e lui era quella che andava qua in questi inserimenti si ho scritto c20 c20? si questa non si incolla si incasta io pensavo che era quella con la firma con la firma ci sono i gancetti c'è un'altra speriamo che non sia uguale se no vi ho i doppioni questa e sarebbe la c18 ok questa deve essere così allora c17 poi abbiamo Pongo tutte diverse le abbiamo trovate per figlio questo è Pongo in versione si in versione cartoon ah questa è l'altra guarda che bella sono tutte incidanti questa è in versione cartoon andiamo a inserirla si ma ce ne sono ancora altre si ce ne ho presi altri due pacchi si così lo riempiamo tutto diciamo eh vabbè ecco il bello aspetta ma hai controllato bene che siano apriamo anche le altre vediamo cosa c'è la tutta è diversa fino adesso si adesso lo capita ah ecco le volevo dire che c'era la firma hai visto che c'era la firma c10 c10 fammi vedere fammi vedere tutta dorata andiamo a cercare la c10 ecco aspetta le ho messe in due oh ok c10 c10 qui in questo modo uno devi sollevare poco poco la lingua di pettiglia anche queste tutte diverse meno male meno male abbiamo anche Sofì in versione cartoon questa quasi quasi mi dispiace incollarla perché la potremmo mettere anche nei diari nei quaderni ripetuta aspetta abbiamo questa qui faremo a scambio con le compagnette guardate c'è questa qui che praticamente era qui nelle ultime pagine nella prima oppure la regali a qualche compagnetto te la metti nella tua stanza guardate si ho ragione qui c'è quella là qui forse è il pezzo di sotto questo si è il pezzo di sotto uno l'abbiamo completato solo una ne abbiamo trovato ripetuta dai adesso passatevi tutto il tempo incollarla quando poi l'album è tutto completo però c'è un problema ci dovresti aiutare quando è tutto completo glielo facciamo vedere vero? infatti allora iscrivetevi al canale se volete vedere l'album di figurine è tutto completo si grazie 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 grazie